Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Rivelato lo spadaccino di fuoco con Metal Morph E mi sta avvenendo dubbio Non è che alla fine della fiera, dopo anni e anni e anni Se qualora fosse fattibile Adesso leggemo gli effetti Vogliono fare un Red Dice Spadaccino di fuoco con Metal Morph strano Sarebbe interessante Ora vediamo gli effetti e capiamo un attimino come è la situazione Prima di iniziare come sempre ragazzi mi invito a iscrivervi nel nostro canale Prima di sempre al giornale Ricordo che l'iscrizione vi ho ricevuto tantissimo Io vi ringrazio, ho detto ciò, partiamo Allora E sono fighi Sono molto fighi Perché è quel Non robottone È quella armatura metallica vecchia scuola Che ci piace, che mi piace almeno abbastanza Allora Metal Flame Swordman 2005-2006 Deve essere evocato sempre con Max Metal Morph Con la Sempre la Metodologia quella classica Allora Possiamo rivelare questa carta dalla mano Per aggiungere una carta che menziona Max Metal Morph Dalla decca alla mano A eccezione di lui E se lo facciamo Mischiamo questa carta nel mazzo Ok Buono perché ti puoi aggiungere praticamente tutto Ma Metal Morph te lo riesci anche A settare Con Zoa Poi anche Metal Zoa Comunque ti aiuta un pochino Poi si rimischiano tutti quanti nel mazzo Che è una caratteristica del deck Ma non è Neanche troppo male Perché effettivamente Poi come Max Metal Morph Gli evocchiamo da un mazzo E ok Ogni volta l'avversario attiva la carta Ha un effetto Guarda Questa carta Guadagna 300 E se lo facciamo Infliggiamo 500 di danni a esso Ed è Ed è una cosa abbastanza grossa Ecco Vedete Quel mix strano Di Spadaccino di fuoco E Dragon Rock Si in realtà Forse potrebbe diventare La caratteristica di Metal Metal Morph Ovvero Fare anche Burn In realtà potrebbe essere un mix Tra Bandit Ken E Joey Wheeler Ovviamente No Perché comunque È quello Però può essere molto interessante Anche visione di un occhi rossi Forse Forse con occhi rossi Al momento è un pochino Un po' più Complicato Con Metal Morph Però inizia a diventare interessante Perché già Il Dragonero lo nega Fa danno da Burn E questo ne fa Addirittura tanti Quindi se non lo neghi Diventa Fortissimo Perché si pompa a manetta L'effetto non è Advanced per turn Quindi ogni volta L'avversario fa roba E perde 500 Se riusciamo a buttarci dentro Anche L'Xis Red Ice Diventa assurda Come cosa Inizia a burnare tantissimo E il primo negate Che fai con Dragonero occhi rossi Metallico Chiudi Quindi potenzialmente Può essere una roba Molto interessante Sia di Burn Sia di Dragonero occhi rossi Sia di Metal Morph In generale Perché comunque Max Metal Morph Ha bisogno Di zoa E metal zoa Diciamo Perché Insomma Gli servono Però partiamo bene E vediamo Quest'altra trappolina Flame Metal Morph Ok Questa però non è andabile Perché vuole Max Metal Morph Ok No vabbè Basta che la menziona Basta che la menziona Scusate Basta che la menziona Non deve essere Ok Può essere aggiunta anche questa Possiamo attivare L'effetto di questa carta Una volta per turno Tributiamo un mostro scoperto Che menziona Max Metal Morph E devo chiamare specialmente Un mostro dal mazzo Che non può essere normalato E che menziona Max Metal Morph Ignorando le condizioni di evocazione E poi equipaggiamo questa carta A quel mostro Come carta di un meglio equipaggiamento Ok Se sta per essere distrutto In battaglia D'effetto di una carta Possiamo andare invece Questa carta al cimitero Fortissimo Perché ci cala tutto Quello che vogliamo dal mazzo Ignorando le condizioni di evocazione Basta che tributiamo uno Qualsiasi Quindi diventa ancora più facile Magari giocare Il Dragonero occhi rossi E il che è tanta roba È tanta roba Perché sono comunque Tutte carte addabili Perché questa comunque Tra poi è a dare Ti rimetti lui nel mazzo Ti puoi comunque Settare o aggiungere Max Metal Morph Che puoi attivare Per evocarti Il Flame Swordman Puoi tranquillamente Evocarti anche Il Dragonero occhi rossi Certo Ci servono Un po' di carte Che Fanno da extender Diciamo Comunque Anche l'illusionista Ovviamente è molto forte In questo mazzo Diciamo che Allora Se riesce A ricevere Altri supporti In questo modo Metal Morph Può diventare interessante Può diventare interessante Bisogna buttarci dentro Qualche cosa Occhi rossi Che fa anche Più danno da burn E molto probabilmente Ci saranno altre A sto punto Altre aggiunte Per quanto riguarda Gli archetipi Di Joy Will Non so se ci vogliono Non so se ci vogliono Buttare pure dentro Un Drago Millenarion Se non il tempo Qualche spadaccino Landstar O non so Se vogliono Addirittura Buttarci dentro Oltre a Bandit Ken Forse gli altri Villain Villain Tra virgolette Che ha affrontato Joy Potrebbe Tranquillamente Buttarci dentro Anche un Jinzo Però un Jinzo Dovrebbe andare a cozzare A meno che Non è un Jinzo Che nega solo Troppole all'avversario Il che potrebbe Anche starci Se butti anche Il Metal Morph Che lo rende Intargettabile In amogine E quant'altro Diventa Interessante Questa cosa Del burn Di danno Mi piace Mi piace Perché può essere Un mazzo Che non stalla Ma che fa burn Interessanti Nella speranza Che comunque Non diventi Ultra oppressivo Ecco Quella è la cosa Però in sostanza Per quanto mi riguarda Sono due supporti Per nulla male Molto interessanti Quindi mi piacciono Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Quanto la pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti